Ti puoi uscire col Marf Di mettere le soundboard della voce del tipo Poi gli rubi il card Non c'è Non dillo a Dello che lo fa veramente Eh ma è una soundboard di Ron e di Gabbo Io Cristo Goodbye grazie per i 5 Ancora Eh regà niente dobbiamo accontentarci Non so che di Eh sono in streak di guse Basta mi sto fompendo i coglioni Eh sto spruzzando Il VDAC Esatto la tasca di spruzzare Ah Mannaggia alla puttana Bella soprattutto carina Mannaggia alla puttana Patrice di merda Allora se posso permettermi è morto Dello è un po' godo Ci sta cresco il prossimo che mori Siete Spiriamo magari Irl Il cadavere era in basso a sinistra se non erro Allora Gianco non può essere Gianco Zanno E Don Chiave Allora io mezzo clear o Giammo Che eravamo l'ultimo L'ultimo tipo 20 secondi eravamo insieme Ragazzi Dima sta mettendo Sono il meccanico Cosa ho detto? Gli ho sbagliato Non siamo stati mai insieme perché mi vuoi clearare Cosa vuol dire non siamo mai stati insieme? Se mi hai detto anche la cosa della spazzatura Che non sapevi come fare la task E c'erano le luci spese Adesso c'era con me Grazie a cazzo ero di fianco a te Chi c'era? Chi c'era con noi? Io Gianco te Io ho detto C'ero Step e Boa C'era Don Chiave Io sono sicuro Allora Allora Io ho visto Steps Mi si vede da una botola Sì però Steps è ingegnere Giammo non so che gioco stai giocando Ma io Io Ero di fianco a te E mi hai anche sentito parlare Quindi Giammo sei un coglione Cioè sono un coglione No Non sapevo fare thumbnail Qui c'è ormai Ormai io so Sono la troia Io ti ho trastato Io vi dico solamente che È zona security of limits ragazzi Non potete entrare Addirittura Sono della sicurezza Devo trovare il Il medium Cristo Oh È Giammo Ok dobbiamo portare Giammo Dobbiamo portare Giammo Da 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 Patris Devo capire chi Devo capire dove Patris Giammo Cristo Cristo Steps Ma Steps è matto Oh Hi È zona security of limits ragazzi Non potete entrare Sono della sicurezza Ma chi ti ha ucciso È Ciro Mi sentite voi Sì 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 Allora Chi ti ha ucciso Steps No Ciro Steps Però ha visto Ciro nella botola Credo Ma poi Ma poi Come si chiama Steps Ha sentito Patris fuori Che parlava con me Mi ha ucciso Patris Ma io devo È infatti io devo trovare Patris Perché c'ho Giammo Giammo il medium Raga Dov'è Patris No ma Scrivi Scrivi È qua E in mezzo alla mappa In mezzo alla mappa Caffetteria Cristo 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 Sono morti in due Vabbè abbiamo trovato io il marzone Scusate Scusate Il corpo dov'era In basso In basso Storage Invece di scendere Sono salito E l'impostore è andato giù E ha ucciso Voglio morire Ah ok Ho capito adesso Dici la lettera Secondo te Chi è l'impostore Zà Io lo so chi è uno Ciro Mevuzza Chi è Io lo so chi è uno Ciro Tevuzza È la papera tutta viola È la papera tutta viola Dici Ciro Sai quale motivo Eh Dima Ahimè È troppo È una concezione A cui non puoi arrivare Il motivo Per il quale Ah dici Sei il colpevole Vabbè Buttami fuori E dopo Io vi dico di trassarmela Io vi dico di trassarmela Ma con quali Cioè Io non lo voglio fare Io ti dico di trassarmela Che cazzo ho intato Ha fatto tutto lui Io sto sto da gioco Non la faccio Perché vince il dodo Io Non sono manco Non sono Non sono manco il dodo Ha pensato Che non è C'è da fare Dopo il culo all'inizio Per me è stupida Sta cosa però Eh Vado vedrete Alla fine del game Spero Lo cerco Lo cerco Lo cerco È una patrice Qui Caffetteria Caffetteria Giammo 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 è il media Giammo vieni Ma è stupido allora Giammo No no ha sbagliato Giammo dove cazzo vai Non c'è luce Non c'è luce mi sa Ok Allora Ma che cosa Ma che cosa C'è C'era il bici Ma che casino Cino Crystal L'hanno ucciso L'hanno ucciso Lì in me Io lo lascio lì Crystal L'hanno ucciso Lì Tu hai sparato A cosa No no Cianco Ho sparato A Ciro Tu Gianchi Hai detto da poliziotto Hai detto Secondo me Ciro è bastardo L'hai ammazzato Sì Io sono della sicurezza Stranito No 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 Gianco Io lo trasta Io lo trasta Ok A posto Ho pagato Anche quello che dovevo Beh siamo in sette Teoricamente quindi Skippiamo sull'impostore Teoricamente è giusto Lo skip Posso andare anche In pensione adesso Adesso non serve più Fare la sicurezza Non sono Sono pagato abbastanza Per questo Non ho pagato più abbastanza Per fare la sicurezza Io vittivo Ma zio porco T'ho fatto Sei mesi di sabb E t'ho regalato pure in sabb Sì gode 10 euro Ma ragazzi Ma perché in tutto questo Jammo non ha chiamato Patrice Eh Non l'ha Non l'ha visto Secondo me Era troppo concentrato Ma Cristo Ma c'erano 62 Dov'è Patrice Dov'è Patrice Eh lei mi ha In alto Sto cercando Jammo io Dov'è Patrice È in basso Dalle docce Tipo verso le docce Ok lo vedo Dov'è Jammo Ok Voi state su Patrice Io cerco Jammo Jammo è qua da me Portalo qua Portalo qua Portalo da Patrice Patrice a destra A destra A destra A destra Va verso Coms Ok no Torna indietro Cristo Jammo vieni Non capirai Eh ma perché non c'è luce Credo Abbiamo perso poco Abbottolato Eh qui 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 Dove? Qui 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 Patrice No corri corri Segna io Segna io Patrice Segna Patrice Dove sta? Dove sta? Balla su Patrice Dai cazzo capiscilo Cristo come fa a non capirlo Ci sono sette pappere Una sopra l'altra Non state tutti qui Esatto Il problema è quello Che Patrice sta Bastardo addosso Eh lo sa Patrice Lo sa Patrice Sì Ragazzi fate così Spostatevi tutti fuori Appena si sposta Patrice Su di lui Eh ma è improbabile ragazzi Ecco qui 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 Oddio posso petare Anche da morto Ma Jammo l'ha capito Ma Jammo non credo L'abbia capito Certo Ragazzo che è uno E Dima E Dima Certo Ma dov'è il bottone? Eh Al centro Sotto storage Eh a destra Ma Jammo non sta capendo Un cazzo No Eh in rec room Ah Cristo ragazzi Ma io dovevo fare le task Scusatemi Eh pure io Io più di spiegare Ah oddio Potremmo metterci insieme E formare una P Insieme proprio Eh No C'è posto sta Facciamo le ricostruzioni Eh sì ma se si muove Doviamo trovare Gianmarco Allora lui è al centro mappa Credo chiami il pulsante Tra 3 2 Eccolo qua Lo vediamo Ok C'è arrivato Dentro Qualcuno no Beh Non è morto nessuno No ho chiamato Jammo Per parlarvi di una cosa Che io so già In anteprima Allora io Ragazzi Ahimè sono un branco Di tumori I fantasmi Quindi non so Come si stanno muovendo Molto spesso Stavano tutti su Powa Solo che c'è Il meme di Powa Che va fuora Io Dima L'ho buttato fuori Tramite fantasmi Io sono Chiesto Perché ero Poteva essere Dima O Ciro Io No Ciro non era Ciro ho trollato Ho pagato solo Gianco Per il mio potere personale Ma neanche Powa Secondo me No secondo me Te ne hai dicono Te hai comprato un it Non so che dire Sei cambiato coi soldi Sono Ah si Ah regà Io c'avevo Permafantasmi su Powa Io darei un try a Powa Se ci saprete Il culo Ed è lui È un genio Comunque I fantasmi No Quando sono In squadra con me Sono dei figli di puttana Tumori E quando siete E quando Gianmarco Tocco Il signore della scuola Di cristallo Comunque Oddio A me prima Mi ha affermato E mi ha fatto Se la temo Io è Bravo Gianco Ma io Ciscrizzo Giammo Ma io Ciscrizzo Giammo Mannaggia Alla Puttana Era Veramente Ma perché Mai portato da Dima Mai portato da Dima Guardi Dima E gli vai appresso No Stavo cercando Patris Stavo cercando Patris Quindi Il cazzo Era La puzzetta Era Ciro Già Però Che Già La Poi farmers Sono Il cazzo